pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il battesimo del signore è un'occasione meravigliosa per riscoprire la grazia del nostro battesimo del quale sarebbe bene ricordare la data così da festeggiarlo nel nostro cuore si tratta del giorno in cui siamo diventati i figli di dio partecipi della sua vita del suo santo spirito vorrei soffermarmi con voi su tre immagini del battesimo di gesù rapportandole esistenzialmente a noi i cieli che si aprono lo spirito che scende la voce del padre partiamo dalla prima immagine i cieli che si aprono gesù si lascia battezzare da giovanni manifestando così la sua solidarietà con noi egli che è dio scende nelle acque del giordano non per essere purificato dai peccati ma per farsi carico dei nostri peccati e salvarci una volta riemerso ecco che i cieli si aprono su di lui biblicamente i cieli chiusi indicano la distanza che c'è tra dio e l'uomo la relazione interrotta con lui a causa del peccato in gesù questa separazione viene infranta squarciata in lui si ripristina la connessione tra cielo e terra in lui l'umanità viene riconciliata con dio in lui unico mediatore possiamo accedere al padre e vivere una relazione diretta con dio quanto è importante vedete l'uomo da sempre cerca di salire al cielo con le proprie forze basti pensare ad adamo che pretese di essere come dio ma senza dio quante volte abbiamo cercato di salvarci a modo nostro ci siamo chiusi nell'autosufficienza abbiamo preteso di farcela con le nostre sole forze o abbiamo pensato di poter guarire le nostre ferite o trovare perdono solo con strategie umane quante volte abbiamo creduto o crediamo di poter colmare i nostri vuoti o di risolvere la nostra precarietà con il possesso delle cose consumando affetti attaccandoci a ruoli insomma di risolvere la nostra vita in modo orizzontale fallendo miseramente i cieli squarciati su cristo ci annunziano la possibilità di una vita nuova in lui e ci ricordano da dove ripartire da lui dalla sua grazia che libera e purifica il cuore in lui possiamo varcare il cielo in lui possiamo vivere sulla terra secondo il cielo cioè possiamo vivere ogni cosa unite a dio miei cari altro è vivere come se tutto fosse sulle nostre spalle versione mito di atlante altro è vivere poggiati al padre altro è affrontare una malattia da solo altro è attraversare quella tribolazione unito a dio altro è sforzarmi di amare senza mai riuscirci fino in fondo altro è amare forte del suo amore in me altro è vedere le cose secondo la mia prospettiva limitata altro è leggerle secondo il cielo cioè secondo la sua parola cogliendone il senso profondo ripartiamo dunque da gesù gesù apre i cieli su di lui si aprono in lui vi è vita in abbondanza lui ci dona grazia su grazia non cerchiamo altrove ciò che solo lui ci può dare a questo punto abbiamo una rivelazione trinitaria lo spirito santo che scende e la voce del padre che ci parla di suo figlio così gesù viene consacrato e manifestato come il messia salvatore e liberatore ma fermiamoci alla seconda immagine gesù vide lo spirito scendere su di lui come una colomba si tratta di una analogia richiama noè che dopo la tragedia del diluvio mandò una colomba per vedere se vi fosse terra asciutta dopo un po la colomba ritornò con un ramoscello di olivo significa che in gesù lo spirito santo trova approdo che lui si pose rimane che da gesù in poi lo spirito santo prende dimora nel cuore del credente dio viene ad abitare in noi è il mistero bellissimo che celebriamo nel battesimo dove la persona viene vitalmente unita a cristo e diviene tempio dello spirito santo sua dimora ma ci pensate siamo tempio di dio quale dignità immensa santa chiara diceva colui che cieli non possono contenere dimora nel cuore del credente si racconta che quando san leonida un martire dei primi secoli fece battezzare il suo primogenito subito dopo il rito prese il bambino tra le braccia e lo baciò sul cuore dicendo che dio abitava ora in quel piccolo bambino ed è vero questa presenza è una delle più belle realtà della vita umana su questa terra dunque come secondo punto chiediamo al signore che ci aiuti a riscoprire la nostra dignità di figli di dio e che lo spirito santo possa trovare sempre più spazio più ascolto più docilità in noi la terza immagine è la voce del padre venne una voce dal cielo che diceva questi è il figlio mio l'amato in lui opposto il mio compiacimento qui ci viene rivelato il cuore del padre non un dio distratto lontano ma un dio che è padre un padre felice di suo figlio tu sei mio figlio amato questa parola è per cristo ma è anche per noi che per mezzo del battesimo siamo stati innestati in lui e siamo un corpo solo con lui e noi abbiamo bisogno di ascoltare questa voce che lo spirito santo ci convinca del suo amore per noi finché non lo accogliamo non saremo veramente noi stessi a noi che spesso elemosiniamo amore qui e lì perennemente insoddisfatti angosciati da pretese che ci torturano chiusi nei nostri traumi a noi che spesso confondiamo l'amore con il bisogno o usiamo gli altri cercando di colmare i nostri vuoti dio padre ripete tu sei mio figlio amato tu sei mia figlia amata in te provo gioia ah se lo spirito potesse convincerci di ciò se potessimo accogliere l'intuizione dell'amore del padre per noi della sua tenerezza quanta pace sperimenteremmo questa voce questo amore del padre è stato il segreto di gesù gesù non è un supereroe ma il figlio del padre uno che ha vissuto ogni cosa da figlio lasciandosi amare dal padre obbedendo al padre e nell'amore del padre che ha attinto la forza per donarsi a noi per amarci sino alla fine anche nel nostro rifiuto la vita di gesù sgorga dall'amore del padre anche noi miei cari per sbocciare e diventare dono abbiamo bisogno di nascere a vita nuova e attingere ad un amore incondizionato gratuito che è prima di tutto al di là di tutto più grande di tutto vedete il battesimo non è solo un po di acqua versata sulla testa ma è l'indelebile esperienza di essere immersi nella relazione d'amore tra padre e figlio in un amore che si è alimentato con la preghiera con i sacramenti fa funzionare la vita già in questa vita si cresce quando ci si sa e ci si sente amati e un bambino si rafforza grazie alla fiducia del padre da qui parte e si alimenta la vita cristiana che non è un'etica più elevata di altre da vivere a suon di sforzi ma anzitutto la meravigliosa possibilità di lasciarsi amare da dio di lasciarci insegnare ad amare da dio per amare con dio da dio sì il battesimo è vivere immersi nell'amore di un padre che ti ripete tu sei mio figlio che davanti ai tuoi fallimenti ti ripete tu sei mio figlio che anche quando non sei all'altezza ti dice tu sei mio figlio amato ed è questo suo amore smisurato che ci rende capaci di amare che ci libera dalle nostre paure dalle nostre chiusure dai nostri peccati e quest'amore non è flatus vocis o vago sentimentalismo ma è una persona lo spirito santo è lui il dono che il padre ci ha fatto nel giorno del battesimo è lui che riversa in noi la tenerezza del perdono di dio ed è ancora lui che fa risuonare la parola rivelatrice del padre tu sei mio figlio sì miei cari lo spirito santo ci ricorda chi siamo siamo amati siamo figli e abbiamo diritto ad esserci nulla può separarci dall'amore di dio solo il nostro rifiuto può farci perdere tanta bellezza cari fratelli e sorelle celebrando il battesimo del signore riscopriamo la bellezza del nostro battesimo dono d'amore dono per testimoniare l'amore del padre e del figlio e dello spirito santo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti